Abbiamo con noi Marvin Maglietti, reduce da un'ottima stagione effettuata l'anno scorso. Quest'anno è ripartita una nuova avventura, cosa ti riproponi per questa nuova stagione? Ciao a tutti, quest'anno spero di continuare ciò che ho fatto l'anno scorso e speriamo di vincere tutti insieme. Qua ormai siamo arrivati a metà preparazione, come vedi la squadra, i tuoi compagni, l'ambiente mi sembra abbastanza buono. L'ambiente è ottimo, il gruppo è più o meno quello dell'anno scorso, a parte qualche giovane che si è inserito, ma tutto ok. La nuova stagione, come sicuramente hai detto anche prima, ti riproponi addirittura di migliorare, se non ripetere, sicuramente un'ottima stagione dell'anno prossimo. Obiettivi che ti poni? L'obiettivo personale è quello di migliorare sempre, di contribuire a vincere le partite. L'ambiente dei tuoi compagni vedo che sono abbastanza carichi, cosa pensi di dire ai ragazzi nuovi e giovani che sono qua? Di cercare di prendere meglio dai più anziani e fare gruppo. E bocca al lupo. Grazie, crepi lupo.